Allora, stasera finalmente, dopo avergli fatto passare una serata tranquilla, che abbiamo preso ieri questo gattino, stasera riusciamo a manipolarlo, vero amore? Hai capito che nessuno ti ha fatto del male? Hai capito che sei al sicuro? E ti fai fare tutto, ieri sera appena presa, era troppo spaventata, pensavamo fosse una femminuccia, e invece ora che si è calmata e non soffia più e tutto quanto, abbiamo scoperto che è un bellissimo maschietto, per noi non cambia. O maschietto, femminuccia, non conta, l'importante è che l'abbiamo tolto dalla strada, e poi pure è buono, sei un cucciolato buono tu, eh patatino, fatti vedere, fatti vedere che sei buona. Ecco qua, finalmente abbiamo visto, bene, visto, quindi non sei una viviana, sei vivi, no, viviano, viviano e vivi, perché c'è questa fretta di fare gli album immediatamente, perché se non scriviamo la storia, non siamo felici. Invece loro vogliono stare un attimino tranquilli e il giorno dopo essere controllati per bene, perché appena presi, cattura, gabbia, eh, giustamente hanno un po' paura, a uno è bene lasciarli tranquilli, per amore. Ecco qua, massaggino, 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 massaggino. Ecco qui, bravo amore, bravo. Ora cambiamo la copertina. Ecco qui, bravo.